vediamo un piccolo trucchetto per velocizzare il nostro flusso di lavoro abbiamo qui una serie di immagini tutte scattate orizzontali questo che vi sto per far vedere funziona solo se le immagini hanno lo stesso orientamento però al limite si fa una batch per le orizzontali e una per le verticali il procedimento funziona comunque andiamo a vedere nel momento in cui abbiamo una serie di immagini il cliente ci chiede di ridimensionarle tutte nello stesso modo ma noi non abbiamo voglia di farle tutte una per una allora che cosa facciamo ne apriamo una la ridimensioniamo come c'è stato richiesto in questo caso risoluzione 72 dpi e la larghezza è di 800 pixel io vado a ridimensionarla e questa è la mia immagine a questo punto io vado a prendere le altre immagini e vado ad aggiungerle come vedete photoshop le ha già ridimensionate all'interno del quadro quindi sono già tutte corrette ora io devo pazientemente premere invio man mano che arrivano per inserirle tutte quante me le sta inserendo come oggetto avanzato quindi sono immagini che pesano molto ma non è un problema perché tanto adesso le andiamo a esportare rapidamente e questo documento neanche lo salviamo perché non ci serve una volta che abbiamo finito di esportarle facciamo un controllo giusto per scrupolo per verificare che non siano state allineate male per sbaglio anche se photoshop raramente sbaglia più probabile che sbagliamo noi allora il momento che le ha importate tutte io la prima cosa che faccio è le seleziono tutte e rasterizzo inutile tenere gli oggetti avanzati che pesano dopodiché sempre tutte selezionate faccio command a seleziona tutto il quadro e centro orizzontalmente verticalmente così sono sicuro che sono tutte allineate a questo punto non devo fare continuamente salva per ogni singolo livello vado su file esporta livelli in file destinazione scrivania estensione jpeg qualità massima e lui automaticamente mi ha salvato tutte le immagini come singoli livelli finito vedete infatti che se andiamo a vedere qui abbiamo i nostri originali di seguito abbiamo 21 foto qui ce fa a mano oppure se c'è una serie di verticali si fa una si fa una seconda volta tutto il procedimento solo per le verticali qui mi ha creato tutta una serie di immagini che sono nominate c'erano delle opzioni per nominare le immagini si poteva inserire un codice ulteriore ma io le ho lasciate semplicemente col nome di delle immagini di partenza in questo caso non mi interessa come sono nominate quello che ci interessa è che in questo modo senza usare bridge o uno scritto delle automazioni ma semplicemente con esporta in file abbiamo velocizzato di parecchio il nostro flusso di lavoro portando a termine il compito di ridimensionare scalare tutte queste immagini in quanto durato questo video un minuto due minuti adesso non lo so poi sicuramente vedrete voi dal dal timer quanto ci ho messo ma insomma questo è un modo che a me personalmente velocizza di parecchio il flusso di lavoro grazie